Sale di nuovo la tensione nel Golfo Persico. Secondo i media locali, l'Iran avrebbe sequestrato un'altra petroliera straniera a mercoledì. I guardiani della rivoluzione riferiscono che i sette membri dell'equipaggio a bordo della nave che trasportava 700.000 litri di combustibile e di contrabbando verso gli stati arabi del Golfo sono stati arrestati. La petroliera è stata condotta nel porto di Boucher.